Benvenuti ragazzi, nuova emulazione tattica da parte del vostro Magico Monta e torniamo ancora molto indietro con la nostra macchina del tempo e torniamo a parlare, come è già successo per l'Olanda di Mikkel Sekruif e l'URSS di colonnello Lovanovski parliamo del Brasile al Mundial 82, tanto caro a noi italiani, di Tele Santana andiamo a scoprire quel Brasile e un po' di quel Mondiale 82 tramite la mia analisi tattica nel sito magiamonta.manager.it e andiamo anche a ricreare passo passo l'emulazione tattica in Football Manager 24 partiamo con una breve introduzione arriva il Mondiale 82 come la favorita, come squadra già vincente della competizione che nemmeno si doveva giocare a detta di molti perché Brasile l'aveva già vinta invece come gli italiani ben ricorderanno si sono imbattuti nella furia degli azzurri e del compianto Pablito Rossi che in finale li battono per 3 a 2 con tripletta dell'attaccante che gli varrà anche il pallone d'oro quella squadra guidata da Tele Santana arriva a guidare i verde oro dopo due anni di Palmeiras e dopo la spedizione non fortunata del 74 che portò all'esplosione del calcio totale di Cruif e Michels Tele Santana cercò di riportare il Brasile a praticare quel football bailado che mancava nella nazionale sudamericana con Coutinho scopriamo però meglio come giocava quel Brasile con l'analisi tattica e ricreazione dell'emulazione tattica per Football Manager 24 vi ho lasciato anche oltre a cliccando qui sul calcio totale di Cruif e Michels la mia emulazione di quell'Olanda anche il 4-4-2 del colonnello Lobanovski sempre mia ricreazione tattica andiamo all'analisi tattica Tele Santana schiera il suo nuovo Brasile con un 4-2-3-1 che si trasforma nel conosciuto 4-2-2-2 grazie al continuo movimento dei tre uomini nella tre quarti e l'attaccante la formazione ad eccezione di qualche partita era composta dal portiere Valdir Perez e la coppia di centrali da Oscar e Luisinho in costruzione il loro compito era essenzialmente quello di avviare la fase di possesso come vediamo in questa immagine qua sopra favorendo appunto le linee di passaggio verso la metà campo dove si innescava la forza di quel Brasile Falcao, Ereso, Socrates e Zico qui invece vediamo il 2-2-2 formato dai nostri uomini nell'emulazione tattica quest'ultimo che poi passerà all'udinese cioè Zico giocava dietro la punta a Serginio che in quel mondiale sbagliò molte reti non da lui e in patria è stato imputato come colpevole di quella vittoria finale mancata Socrates invece partiva prevalentemente sulla destra per andare poi ad occupare posizioni più centrali a sinistra giocava Eder con gli stessi movimenti qui vediamo un esempio appunto di Socrates e l'esterno sinistro stretti e qui vediamo Zico in versione rifinitore per l'attacco la profondità dell'attaccante l'ampiezza era garantita dai due esterni bassi Leandro e Junior dotati di tecnica da centrocampisti e contemporaneamente proiettati in avanti entrambi i terzini si potevano scambiare di posizione con gli esterni andando in sovrapposizioni interne come vediamo in questa immagine sotto col terzino Carlos Alberto in questo caso che va a tagliare dentro al campo gli offensivi del Brasile erano tutti pronti ad occupare i corridoi centrali nelle zone di rifinitura e finalizzazione ciò permetteva ai verde oro di essere imprevedibili in fase offensiva l'intera fase di possesso verteva sull'idea di garantire appoggio al portatore di palla e di favorire le giocate a 3 e a 2 come vediamo in questo esempio molta densità centrale con ben 6 uomini i famosi 2-2-2 tutto ciò è un footmanager 24 adesso passiamo a ricreare la nostra analisi tattica scusate emulazione tattica si crea con un 4-2-3-1 appunto poi tiki-taka verticale con mentalità offensiva in fase di possesso l'ampiezza è stretta con passaggi corti e un ritmo standard si parte palla a terra dalla difesa sfruttando il centro con giocate la palla negli spazi si cerca di portare il pallone aerea di rigore affrontando la difesa palla al piede con più creatività i ruoli per arrivare a tutto ciò e anche al famoso 4-2-2-2 sono un portiere classico e due difensori classici sugli esterni abbiamo detto due terzini che danno ampiezza e poi tagliano dentro al campo anche sempre in proiezione offensiva sono due esterni completi a sinistra supporto e a destra attacco entrambi hanno l'impostazione personale taglia dentro col pallone a centro campo abbiamo un incontrista difesa se reso e poi un regista arretrato fa il cao davanti è qui che avviene la tra virgolette magia cioè che ci va a portare al 4-2-2-2 cioè impostiamo il trequartista attacco centralmente sugli esterni due registi avanzati uno su attacco l'altro su supporto a entrambi diamo il giocare stretto e l'andare avanti appena possibile con libertà di movimento così come l'attaccante che non c'entra avanti ma gli diamo la libertà di movimento questi continui movimenti di questi 4 uomini ci porta con zico che a volte potrebbe andare accanto alla punta e dietro vanno a stringersi due esterni oppure uno dei due esterni si avvicina alla punta e resta il zico trequartista il regista centrale quindi con queste rotazioni andremo a vedere in game il 4-2-2-2 proseguiamo con l'analisi tattica perché passiamo alla fase di non possesso la fase difensiva del Brasile era organizzata più di quanto si pensi infatti tutti i giocatori cercano di rientrare dietro la linea della palla dando vita a una sorta di 4-4-2-4-5-1 che dipendeva dal posizionamento difensivo più o meno avanzato di uno dei tre dietro la punta vediamo in questo caso il 4-5-1 con tutti che arretrano nel centro campo e il 4-4-2 con uno dei tre uomini dietro la punta che resta avanzato l'azione di subito della manovra avversaria era frutto di soli pressioni individuali visto che la squadra privilegiava l'idea di coprire gli spazi più che quella della reconquista immediata in Football Manager 24 nella schermata di transizione si imposta ritornate e contropiede mentre in quella di non possesso si imposta una linea difensiva alta e un pressing standard come vediamo appunto in Football Manager ritornate contropiede non possesso linea difensiva più alta blocco medio si fa scattare il pressing molto intensamente quando entriamo in questa zona e poi stiamo alti facendo il fuorigioco anche se ai tempi non c'era però in Football Manager dobbiamo metterla per far stare alti i nostri uomini come stava la linea del Brasile passiamo adesso a vedere i risultati e come ho testato la tattica tattica testata in un mondiale nel database Legend mondiale che come vediamo abbiamo vinto in finale con l'Olanda battuta 4 a 2 Olanda grande Olanda con Cruyff e tutto il resto della banda olandese e pareggio con l'Argentina di Maradona e company 1 a 1 con una grande prestazione però nonostante sia arrivata solo le calci di rigore e la vittoria poi abbiamo battuto il Belgio 3 a 1 anche qui con una grande prestazione 10 tiri 19 tiri 10 in porta 1 tiri 2,78 60% di possesso palla battiamo anche il grande Uruguay 3 a 2 anche qui con una bellissima prestazione Leandro Zico Rivelino in gol poi battiamo nei gironi Camerun 4 a 0 con una prestazione sontuosa con xdg addirittura di 4,64 e 31 tiri in porta 5 a 1 alla Serbia anche qui 24 tiri xdg di 4,68 e 1 a 0 la Svizzera all'esordio mondiale nonostante 1 a 0 ma una buonissima prestazione il tutto con un totale di 21 gol in 7 partite il possesso palla è al 57% siamo al quinto posto però possiamo metterci a pari tra virgolette solo con l'Argentina perché è l'unica che ha fatto 7 partite come noi il resto sono ferme a 3 la squadra che ha zebrato di più classica del Brasile è la squadra che ha fatto anche più tiri di tutti 149 in 7 partite mentre per i gol subiti siamo a 7 gol in 7 partite con 2 clean sheet per quanto riguarda i giocatori Rivelino il nostro regista avanzato a sinistra perché non era presente purtroppo nel database ed R chiude con 8 gol fatti al secondo posto troviamo insieme a Cruif Spencer dell'Uruguay Pelé con 5 perché Serginio l'attaccante non era disponibile per gli assist abbiamo Zico con 3 al secondo posto insieme a Gullit Futre Kubala Bruno Fernandes del Portogallo eccetera eccetera detto questo ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video di questa emulazione tattica nella versione italiana nel lasciarvi alla versione inglese io vi ringrazio di nuovo per il sostegno spero che continuate a sostenermi guardare i miei video che vi piacciono sempre di più accetto come sempre consigli per migliorarli cosa preferite o cosa non preferite e spero sempre anche nelle vostre iscrizioni ai miei vari social compreso questo canale quindi siamo alla fine vi ringrazio come sempre tornando ai discorsi di allenamenti che trovate il link in descrizione anche qui vi consiglio allenamenti per Tiki Taka appunto detto questo vi mando un abbraccio FM24 Santana's Brazil 82 Introduction They arrived at the 82 Mundial as the favorite as a team that had already won the competition which according to many should not even have been played because Brazil had already won it Instead as the Italians will well remember they ran into the fury of the Azzurri and the late Poblito Rossi who beat them 3-2 in the final with a hat-trick from the attacker which will also earn him the Ballon d'Or That team led by Telly Santana came to lead the green and gold after two years of Palmeiras and after the unsuccessful expedition of 74 which led to the explosion of the total football of Krujif and Mikkels Telly Santana tried to bring Brazil back to practicing that football Bailado that was missing in the South American national team with Cochinho Let's find out better how that Brazil played with the tactical analysis and recreation of the tactical emulation for football manager 24 Tactical analysis Telly Santana lines up his new Brazil with a 4-2-3-1 which transforms into the well-known 4-2-2-2 thanks to the continuous movement of the three men in the attacking midfield and the attacker The lineup with the exception of a few matches was made up of goalkeeper Valjir Perez and the central pair of Oscar and Luisinho During the construction phase their task was essentially to start the possession phase immediately favoring passing lines towards the midfield where the strength of that Brazil team was triggered Falcao Cerezo Socrates and Zico The latter who would later move to Udinese played behind striker Serginho who missed many goals in that World Cup and was blamed in his home country for that failed final victory Socrates on the other hand started mainly on the right and then moved on to occupy more central positions On the left header played with the same movements Width was guaranteed by the two short wingers Leandro and Junior equipped with midfielder technique and constantly projected forward Both fullbacks could exchange positions with the wingers overlapping inside Brazil's offensive players were all ready to occupy the central corridors in the finishing and finishing areas This allowed the green and gold to be unpredictable in the offensive phase The entire possession phase focused on the idea of guaranteeing support for the ball carrier and encouraging three-man and two-man plays All this in Football Manager 24 is set with a vertical tiki-taka style with an offensive mentality The width is narrow with short passes and slightly higher pace You start the ball on the ground from the defense and exploit the center leaving creativity and bringing the ball into the penalty area The non-possession phase Brazil's defensive phase was more organized than you think In fact all the players tried to get back behind the line of the ball giving life to a sort of 4-4-2 or 4-5-1 which depended on the more or less defensive positioning less advanced than one of the three men behind the strikers The disturbing action of the opponent's maneuver was the result of individual pressure alone given that the team favored the idea of covering spaces rather than that of immediate reconquest In FM24 in the transition screen you set up returns and counterattacks while in the non-possession screen you set up a high defensive line and a standard pressing line The intense pressing The tactical roles are a classic goalkeeper and two classic central defenders The fullbacks are complete wingers on the left as support and on the right as attack with a cut and set up The two midfielders are a support playmaker and a defense tackle The three behind the attacker who is a center forward with freedom of movement are a central attacking midfielder and two advanced external playmakers One attack and one support with a stay-tight approach Freedom of movement and forward as soon as possible Results of tactical emulation in Football Manager 24 I tested the tactic in Football Manager 24 by playing a World Cup in the Legends database so all the football legends in one database In Brazil I used the players from the 1982 expedition whenever possible Brazil wins the World Cup by eliminating Argentina on penalties and the Great Netherlands in the final In the previous rounds they beat Uruguay Belgium Serbia Switzerland and Cameroon We score 21 goals in 7 games and concede 7 3 average goals per game and 3 average xG 24.98 total Average ball possession of 57% Rivolino the left wing playmaker finished with 8 goals and the World Cup scorer the striker Pele 5 For assists Zico finished with 3 3 Concernedto to 4 if we score 1 or 5 or 6 or 10 or 12 or 135 effort 12 in 6 you 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 Grazie a tutti.